Nel Consiglio Comunale tenutosi ieri sera la Sindaca ha elencato i nomi e le deleghe dei nuovi componenti della Giunta. Un passaggio obbligato dopo la presentazione degli stessi alla stampa avvenuta qualche settimana fa. Corre l'obbligo di annunciare la nomina del nuovo Assessore Davide Bruno e le deleghe conferite Assessore alle politiche comunitarie allo sviluppo. Siccome abbiamo modificato un po' le deleghe le ricapitolo per cui oltre a Davide Bruno l'ingegnere Carolina Vicinanza Assessore all'Ambiente e Patrimonio, Pietro Cerullo Assessore alle opere pubbliche allo sport, Rosana Caracciolo Assessore alle politiche sociali, Stefano Romano Assessore legalità e contenzioso, Maria Catarozzo Assessore al bilancio all'area economico-finanziaria, Lucio Pastorino Assessore al commercio e quartieri. Vorrei dare la parola al nuovo Assessore insediato per la rappresentazione del suo Assessorato. Durante la seduta di ieri inoltre i consiglieri Giuseppe Salvatore e Gemma Caprino hanno annunciato il loro passaggio nel gruppo misto. Alessio Michele.